Non fare marketing, questa è davvero un'arte, accessibile a tutti, ma che pochi abbracciano. Distilla quello che ti sto per dire e che predico da parecchio tempo. Fai tante cose, mettila al mondo. Il tuo lavoro è il più grande strumento di marketing, quindi fai vedere tutte le cose che fai. Poi aiuta le persone. L'egoista non si diffonda. Diventa noto per essere generoso. Consegna di più, un lavoro adeguato, non se ne parla. Mentre un lavoro che supera le aspettative, sì. Poi rispondi alle persone che ti contattano e riconosci le persone che ti menzionano. Tutti meritano il tuo tempo. Condividi ciò che impari, questo è importante. Insegna quello che sai, la tua conoscenza a un bene, che diventa più prezioso quando la condividi. Quindi crea valore, coltiva relazioni, comunica efficacemente, fai marketing, aumenta la visibilità e monetizza. Ciao, buona giornata.